Turno infrasettimanale in cui il treno delle dirette inseguitrici dell'Alba Adriatica mette la marcia alta e sorpassa i Vibratiani. Questo perché la prima delle rivali dei Rosso Verdi era impegnata proprio a Luca Vallese. Il Montorio vince 1-2, prima botta e risposta su rigore, apre Pigliacelli per i gialloneri, rimedia Ridolfi per i paroni di casa. Puniti però da uno svarione difensivo nella ripresa, ancora Pigliacelli, il Montorio passa ad Alba. Vince anche il Sulmona, primo squillo da tre punti al Pallozzi, apre al 27esimo il piccolo fenomeno Pizzi nella ripresa Iaboni a chiudere la pratica Spallanciano. Con gli Ovidiani e i Montoriosi il Tris di Tessa si chiude con il Francavilla, al Valle Anzuca un Castelli Sangro Maidomo va sotto, gol di Lalli ma recupera con Petrosino, la rete che regala un sorriso a Meco Monaco e Timbrata dal centrale difensivo di Candia in elevazione. Ride anche il Pineto nel derby tutto a tinte bianco-azzurre col Colonia Paese, gli uomini di Ciarrocchi aprono e chiudono, la prima è di Di Felice, la seconda di Nicola Trento 2-0 e il Colonia rivitalizzato di domenica Roseto contro il San Salvo, sembra già un pallido ricordo. E a proposito di Roseto, cade la Rosetana e lo fa in maniera fragorosa al Fonte dell'Olmo contro il Vasto Marina. Prima dell'intervallo 0-1 firmato avvantaggiato, in apertura di secondo tempo lo 0-2, afferma Cesario e ora la posizione di Lillo Catalano è quanto mai traballante. Quasi allo scadere arrivano i tre punti del Mosciano e Pietro Fusco a condannare un Martinsicuro sempre più in difficoltà e fermo al pala, quota 0. Dopo il pari interno col Francavilla, lo Sporting Tollo e Spugna, San Salvo 2-3, doppio vantaggio tollese con Colecchia e Daguano, Marinelli abbozza la rimonta per i suoi ma Bellè chiude la pratica con l'1-3 che permette ad Alberico solo di accorciare le distanze. La Miternina spazza via il Guardiagrelle sul proprio terreno con il più classico dei 2-0, un gol per tempo, Molinari e Pierleoni, le marcature degli Aquilani. Finisce 0-0 tra casa l'incontrata e Capistrello e in virtù di questi risultati è un trio a governare adesso la graduatoria. Perde il primato ma non molla l'alba staccata di un solo punto, Pineto e Vasto a ridosso delle primissime, in difficoltà Rosetana, Guardiagrelle e Spallanciano. Sabato niente anticipo e domenica si torna già in campo. Grazie a tutti.